Il rione Portella vince l'edizione 2018 del concorso Alberi Artistici di Bastia Umbra. Il concorso, andato in scena in Piazza Mazzini domenica 9 dicembre, è stato sottoposto alla supervisione di una giuria qualificata, composta da Paolo Emilio Landi, Gianfranco Anzini, Annalisa Buccellato e Azzurra Di Mecco, figure del Cinema e del Teatro Nazionale, note al pubblico bastiolo per essere stati coinvolti anche nella giuria tecnica delle sfilate del palio. Al secondo posto è il rione Sant'Angelo Al terzo posto il rione Sarocco E al quarto il rione Monciopeta Gli alberi dei quattro rioni sono posizionati lungo le vie della città. Il rione Portella si trova in via Firenze di fronte all'arco della Portella, il rione Sant'Angelo davanti alla rocca baglionesca, il rione Sarocco davanti alla chiesa di Sarocco e il rione Monciopeta in Piazzetta Cabur. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!